Promuove la salute, accresce la forza delle ossa, riduce la ritenzione idrica, favorisce un sonno migliore regolare e offre un aiuto naturale in più dal punto di vista del desiderio sessuale. Continuate a ripetere una bufola più e più volte e alla fine qualcuno ci crederà e la ripeterà a sua volta arricchendola di altri, altrettanto inventati, particolari. Ed è quello che è successo al sale rosa dell'Himalaya. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. In molti mi hanno chiesto di parlare di questo sale che viene descritto come miracoloso ed eccomi qui allora, ma il video sarà, vi avviso, piuttosto lunghetto per cui vado a sedermi. Nella puntata precedente dedicata ai sali abbiamo parlato dei sali marini colorati oggi parliamo invece dei sali che vengono estratti dalle miniere e sono colorati e in particolare parliamo del sale rosa dell'Himalaya. Allora partiamo dalla prima bufala che è il nome. A dispetto del nome questo sale non proviene dall'Himalaya ma da qualche centinaio di chilometri di distanza, più precisamente dalla provincia del Punjab in Pakistan. Proviene da un complesso montuoso che si chiama Salt Range che contiene, guarda caso, la seconda miniera di sale più grande al mondo. Nell'estremità orientale di questo complesso montuoso c'è la miniera di Kevra, è la più antica miniera di sale dell'Asia e ha sette strati di colori diversi che possono variare dal bianco al rosso intenso che si alternano e che vengono sfruttati da migliaia e migliaia di anni. La miniera si estende su 18 livelli con decine e decine di chilometri di tunnel e ogni anno vengono estratti più di 300.000 tonnellate di sale. Quindi insomma già dal nome questo sale sembra falso come una moneta di tolla. Ma prima di continuare lasciatemi fare una nota metodologica che è estremamente importante. Nella scienza l'onere della prova sta a chi fa delle affermazioni, non ad altri smentirle. Non sono io a dover smentire che esistono gli unicorni, per riprendere un esempio che ho già fatto, ma sei tu che affermi che esistano a dover portare delle prove convincenti e noi valuteremo le prove. Quindi non venite da me o da altri a chiedere di smentire questa o quella affermazione che avete letto sul web riguardo al sale, riguardo agli integratori, riguardo agli alimenti, riguardo ai farmaci, riguardo a qualsiasi cosa, ma chiedete le prove a chi fa queste affermazioni. Quindi abituatevi a chiedere le fonti a chiunque spacci come miracolosi un cibo senza dare le fonti. E quindi è considerare di valore zero, nullo, qualsiasi cosa queste persone affermino se non sono dimostrate. E questo, purtroppo, vale anche se le persone che fanno certe affermazioni sono medici o nutrizionisti o comunque scienziati. Quindi niente fonti, niente cambello. Secondo punto, è puro perché è antico. Non bastavano i grani antichi, adesso abbiamo pure i sali antichi. E questa è un'affermazione che sentiamo spesso fare. Posto che ogni sale alimentare, compreso questo, deve contenere almeno il 97% di cloruro di sodio, per la legge italiana, spesso si sente declamare questo sale, come miracoloso, è incontaminato. Perché, continua il ragionamento, è stato derivato da mari di milioni di anni fa che erano incontaminati, mentre i mari adesso lo sappiamo tutti che sono inquinati, no? Giusto? Sembra ragionevole come discorso. Certo, ogni sale estratto da una miniera è il sale che era presente in questi mari fossili che si sono prosciugati milioni e milioni di anni fa. Ne abbiamo anche in Italia, per esempio, non so, in Sicilia, a Petralia, si estrae della sal gemma praticamente pura, ed è bianca. Queste persone dicono, ah ma il sale di oggi è inquinato e quindi andiamo a prendere il sale rosa dell'Himalaya. Allora, hai le prove che hai inquinato? Puoi portare dei dati? Puoi portare delle analisi? Altrimenti quello che dici è fuffa. Mi sono chiesto però perché questa frase faccia tanta presa? Perché alle orecchie di molte persone suoni plausibile? La risposta che mi sono dato è che molte persone non sanno come in realtà si estrae il sale dall'acqua di mare e pensano che semplicemente si prenda l'acqua, si faccia evaporare tutta e quello che rimane viene impacchettato e venduto. No, non si fa così. Se siete in questo momento al mare, magari qualcuno di voi c'è già, andate in spiaggia, prendete un paio di litri d'acqua, metteteli in un catino, lasciate evaporare al sole l'acqua, magari in un paio di giorni, otterrete della polvere bianca. Provate ad assaggiarla. Fa schifo. Fa letteralmente schifo. Quello non è cloruro di sodio, non è il sale che viene messo in mente. Perché? Perché nell'acqua di mare, oltre al cloruro di sodio, ci sono tanti altri elementi che danno dei sapori amari, che danno il sapore dell'acqua di mare. Tutte queste sostanze, dei sali di magnesio, di potassio e così via, dobbiamo eliminarli, perché sono amari e non sono piacevoli. Quindi quello che rimane nel vostro catino non è cloruro di sodio quasi puro e contiene anche tutti gli altri elementi, oltre anche, ovviamente, a eventuali sostanze inquinanti che sono presenti nell'acqua di mare, che ovviamente non è adatta per essere bevuta. Ma il sale da cucina non si produce così, si purifica, si raffina, proprio al fine di arrivare a far cristallizzare, a far precipitare il cloruro di sodio, ma lasciando nell'acqua sovrastante la gran parte delle sostanze indesiderate che sono amare e che noi non vogliamo, e che quindi si butta via. Una salina non è nient'altro se non un enorme impianto di raffinazione del sale che funziona a energia solare ed è all'aperto. Anche il sale integrale è raffinato, questa è una cosa che manda fuori di testa e crea un cortocircuito in molte persone. Certamente il sale integrale non è, come vi dicevo, semplicemente acqua di mare fatta evaporare, e meno male. Il sale integrale ha subito una serie di raffinazioni, di purificazioni, semplicemente nell'ultima fase non viene lavato, quell'altro viene lavato con acqua salata, questo non viene lavato, non viene asciugato, quindi il sale integrale spesso è venduto un po' umido, e eventualmente non si aggiungono degli agenti anti-agglomeranti come a volte vengono aggiunti alle confezioni di sale fino. Ma basta! Circa il 77% della polvere che avete ottenuto nel vostro catino è cloruro di sodio. Il restante sono, per il 99%, sali di calcio, di magnesio e potassio. Ma veniamo adesso al sale dell'Himalaya, perché, come vi dicevo, questo è rosa. Allora, com'è possibile che dei sali che arrivano da dei mari di milioni di anni fa abbiano un colore diverso dal bianco? Vuol dire che non è solo cloro di sodio? No, infatti, non è solo cloro di sodio, vuoi perché forse la composizione di quel mare all'epoca era diversa, o vuoi perché durante i milioni di anni che sono passati ci sono state delle intrusioni, dei processi geologici, che hanno fatto infiltrare delle altre sostanze, e in particolare il rosso del sale dell'Himalaya, continuiamo a chiamarlo così anche se, come vi ho detto, non proviene dall'Himalaya, ma insomma, deriva dall'ossido di ferro, dalla ruggine di fatto. Infatti se noi prendiamo del sale, quindi ne ho messo un po', e lo sciogliamo, si vede che l'acqua non è perfettamente bianca, l'acqua è rosata, perché ci sono delle particelle di ossido di ferro in sospensione, perché la ruggine, sapete, non si scioglie. Questo qui, se lo facciamo decantare, lo lasciamo lì una notte e lo lasciamo depositare, dovremmo vedere un sottile straterello di polvere rosata, che è ossido di ferro. Ma quanto ferro c'è? Potrebbe essere comunque interessante per la nostra salute? Allora, ci sono un po' di analisi che si possono trovare negli articoli scientifici pubblicati, ne ho qui alcuni, li ho letti tutti. Le analisi variano molto a seconda del campione, a seconda da dove è stato prelevato un certo campione nella miniera. Come vi dicevo, la miniera è enorme, ha sette strati, per cui gli articoli non sono univuci sulla composizione, proprio perché il materiale non è omogeneo. E questo si vede benissimo anche se andiamo a prendere la confezione e noi vediamo dei pezzettini che sono più chiari e dei pezzettini che sono più scuri, e quindi è ragionevole pensare che la composizione sia diversa a seconda del pezzettino. Le analisi chimiche trovano da un minimo di 0,24 mg per chilo di ferro a un massimo di 50 mg per chilo. Il comune sale bianco da tavola non ne contiene, ma se pensate che il ferro contenuto nel sale rosa dell'imale possa avere un qualche effetto sulla nostra salute, beh, vi dovete ricredere. Ogni giorno l'italiano mediamente consuma circa 10 g di sale, di cloruro di sodio. Le raccomandazioni sanitarie dicono che dovremmo ridurre il consumo di sale a 5-6 g al giorno. Se questi 5 g noi dovessimo assumerli solo sotto forma di sale dell'Himalaya, a seconda del range di ferro che ho trovato nelle ricerche scientifiche, assumeremo da 0,001 mg a 0,25 mg di ferro al giorno. Questi numeri da soli non hanno senso e bisogna confrontarli con le dosi suggerite di assunzione di ferro giornaliero. Queste dosi variano da 10 mg al giorno per un maschio adulto a 18 per le donne adulte, che va addirittura a 27 per le donne in gravidanza. Quindi capite bene che se anche noi assumessimo tutto il sale sotto forma di sale rosa dell'Himalaya, assumeremo una quantità risoria di ferro. Quindi la quantità di ferro che noi possiamo assumere da questo sale rosa è assolutamente irrisoria. Ripeto, dobbiamo ridurre il sale, non sostituirlo con un sale colorato. Quindi, insomma, chi vanta superiori qualità nutrizionali di questo sale lo fa molto spesso, contando sul fatto che le persone non vanno a fare i calcoli per capire che è semplicemente fumo negli occhi. Uno dice, e questa è un'obiezione che mi fanno tantissimi anche nei commenti, eh ma poco è meglio di niente. No, poco di poco è sempre troppo poco. Il punto è proprio questo. Si dà l'impressione di assumere qualche cosa che ha un alone di salubrità, quando non è vero. Se uno ha una carenza di ferro o di altri elementi, non è certo prendendo dei pirlesimi che sono presenti in questi alimenti spacciati per miracolosi, che si salverà. Deve andare da un medico e farsi prescrivere una cura particolare o seguire degli alimenti particolari. Ci sono degli alimenti che sono ricchi in magnesio, ricchi in ferro e altre cose. Il sale dell'Himalaya non è tra questi. Questo giochino di magnificare le proprietà nutrizionali di singoli alimenti, andando a decantare il contenuto di questo o di quel minerale, è un giochino che vedo spessissimo fatto in rete, sempre senza termini di paragone, di confronto. Perché si deve dare l'impressione finta che si assuma chissà quanto ferro semplicemente sostituendo il sale bianco col sale dell'Himalaya? Ricordo 0,001 o 0,025, capite? Quindi insomma il ferro è meglio prenderlo da qualche altra parte. Esiste però un elemento di cui spesso la dieta, non solo italiana ma anche di moltissime popolazioni del mondo, è carente ed è lo iodio. Un essere umano adulto deve assumere circa 0,15 mg di iodio al giorno. In passato delle gravi carenze di iodio nella dieta ha causato tutta una serie di malattie in Italia e tuttora ci sono delle malattie di questo tipo in giro per il mondo, ed è quindi per questo che le autorità sanitarie consigliano fortemente l'utilizzo di sale iodato, cioè dove lo iodio è stato aggiunto. L'aggiunta è stata calcolata in modo tale che usandone i famosi 5 grammi al giorno riusciamo ad assumere completamente dal sale la quantità di iodio che noi abbiamo bisogno. e nonostante quello che alcuni dicono, sempre senza portare prove, il sale integrale non contiene abbastanza iodio. Una delle affermazioni che più spesso si legge per quel che riguarda il sale dell'Himalaya è che contiene 84 elementi fondamentali per la vita. Vedi la sfiga? Da questi presunti 84 lo iodio non c'è. In nessuna delle analisi chimiche è riportato lo iodio. Tu pensa alla sfiga. Ma veniamo agli altri elementi. Vuoi vedere che magari questi oligoelementi sono presenti in quantità che possono essere utili? Abbiamo già visto che non è così per il ferro, che ce n'è ma pochissimo, e non è così per lo iodio che non c'è. Però se voi notate tutti quelli che parlano delle proprietà nutrizionali di questi misteriosi e mitologici 84 oligoelementi, nessuno che mi dica le fonti. E spesso sono anche nutrizionisti. Ce n'è uno addirittura qui su YouTube, non vi metto il link, che parla di elementi contenuti nella tabella pitagorica. Cavoli, la tabella pitagorica? Ma stiamo scherzando? Ma io mi dovrei fidare di una che confonde la tabella di Mendeley con quella pitagorica. Quindi chiedete le fonti. Ma tutti questi siti ripetono a pappagallo la storiella degli 84 elementi. Perché dico che è storiella? Perché se uno va a vedere gli articoli pubblicati sulla letteratura scientifica non c'è traccia di 84 elementi. Tutti gli articoli che ho trovato, tutti, a seconda della zona della miniera, ritrovano un numero di elementi che va da 10 a 20. Dove sono gli altri 64? Non ci sono. Ma allora perché tutti continuano a ripetere a pappagallo questa favoletta? Tutto è nato alla fine degli anni 90, agli inizi degli anni 2000, quando un sedicente biofisico, che non lo è, tale Peter Ferreira, va in giro per la Germania a fare una serie di conferenze, qualcuna le trovate ancora qui su YouTube, e alla fine pubblica un libro che si chiama Acqua e Sale, lo trovate anche in Italia, andate nella sezione fuffa salutistico esoterica di qualsiasi libreria e lo trovate, in cui lui senza prove, si pubblica una tabella, ma dove l'ha presa chi l'ha fatta non si sa, la scienza non funziona così, dice che il sale dell'Himalaya contiene questi mitologici 84 oligoelementi. Allora cominciamo a chiarire la questione di quali elementi abbiamo noi bisogno. Abbiamo bisogno di ferro, sappiamo che abbiamo bisogno di sodio, abbiamo bisogno di potassio, abbiamo bisogno di magnesio, calcio, abbiamo bisogno di una serie di elementi, ma non 84. Se noi andiamo a vedere per esempio la Società Italiana di Nutrizione Umana, questa riporta 15, 15 elementi noti di sicuro di cui noi abbiamo bisogno. Alcuni servono perché funzionano come il cobalto per esempio insieme ad alcune vitamine, di altre ancora non si sa bene. Per esempio per il cromo a lungo è stato ritenuto un elemento che forse poteva essere utile per qualche tipo di metabolismo, adesso si tende a pensare che il cromo non sia più da considerare un microelemento utile per il nostro metabolismo, ma se anche noi mettiamo dentro tutti i casi dubbi, oltre a quelli certi, arriviamo a 24. E degli altri 60 per arrivare a 84 cosa ce ne facciamo? Il sale rosa sarà pure incontaminato dall'inquinamento del mare odierno, ma contiene altre cose, indubbiamente. Cosa contiene? Adesso andiamo a vedere cosa contiene, e se effettivamente le cose che contiene possono essere utili o no. Come vi ho detto, tutte le analisi che ho trovato riportano, a seconda della zona della miniera dove è stato estratto il sale, dai 10-15 al massimo 20 elementi. Peccato che questi 20 elementi, oltre a contenere i soliti presenti in qualsiasi sale, cioè il cloro, il sodio, il magnesio, il ferro in questo caso, ma contenga anche altre sostanze che di sicuro non ci servono, o addirittura in grandi quantità possono essere tossiche. Perché le analisi, ripeto non me lo invento io, le analisi mostrano che questo sale contiene delle tracce di rame, manganese, cromo, piombo, nickel, alluminio. Allora alcuni, come il rame, in piccolissime quantità sono effettivamente utili per il nostro organismo, ma in alte quantità sono tossici. Altri invece, come il cadmio, il piombo o il nickel, non solo non sono assolutamente utili all'organismo, ma sono tossici, fanno male in alte quantità e addirittura alcuni, come il cadmio o il nickel, sono messi nella lista 1 dello YARC come sicuramente cancerogeni e hanno il brutto difetto di accumularsi nel corpo umano. Soffermiamoci sul cadmio. Il cadmio è un metallo pesante, sicuramente cancerogeno, ed è per questo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo documento principale in cui classifica che cosa deve contenere, che cosa non devono contenere i vari alimenti che noi mangiamo, il Codex Alimentarius, dice che nessun sale commestibile al mondo deve contenere una quantità di cadmio superiore allo 0,5 mg per chilo. Andiamo a vedere le dosi minimi e le dosi massime di cadmio misurato dai campioni. Allora, la quantità minima trovata di cadmio nel sale rosa è 0, e questo va bene. La quantità massima però trovata in alcuni di questi studi è di 9 mg per chilo. Vi ho detto che la dose massima suggerita dall'OMS è di 0,5 mg per chilo, quindi 20 volte tanto. Noi non possiamo sapere quanto cadmio è contenuto nel sale rosa venduto in Italia. Mi voglio augurare che rispetti le regole dell'OMS proprio perché è una cosa che noi consumiamo tutti i giorni e quindi dobbiamo essere il più sicuri possibile che non ci possa dare degli effetti dannosi a lungo termine. Calma però, prima di andare in cucina e buttare via la confezione da un chilo di sale rosa che vi hanno regalato. I livelli stabiliti dall'OMS non sono livelli di pericolo, sono dei livelli di sicurezza. Come dire, se arrivi fino a quel livello dovremmo essere sicuri che non ti succede niente, ma anche se lo superi un po' o per un po' di tempo non dovrebbe succedere niente. Sempre secondo l'OMS noi possiamo tollerare 500 microgrammi di cadmio alla settimana. Se prendiamo il dato peggiore, quello più sfigato, e consumassimo solo sale rosa tutta la settimana noi arriveremo circa a 315 microgrammi, quindi al di sotto della dose che l'OMS reputa tollerabile dall'organismo umano. Quindi state tranquilli che se lo usate ogni tanto non vi avvelenate. Ma la domanda è perché dovremmo consumarne 500 microgrammi o 315 o anche 100? Per quale motivo? Solo per seguire una stupida moda? Insomma, non riduce l'ipertensione, non la ritenzione idrica, non ci sono vantaggi nutrizionali usarlo, o non funziona come sostituto del viagra, in più contiene delle sostanze che in alte dosi sono tossiche ma che di sicuro non ci servono e che quindi sarebbe meglio non assumere, perché si accumulano nell'organismo, perché dovremmo utilizzarlo? L'alternativa? Un buon sale bianco, possibilmente iodato, da salgema o da salina, che costa anche meno. Sale rosa? No grazie! Ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere.